Le prime 5 interrogazioni del Consiglio regionale si tratta di interrogazioni che riguardano l'attività venatoria, in particolar modo le incombenze che la Giunta deve affrontare immediatamente per garantire un corretto svolgimento dell'attività venatoria nella nostra regione per la stagione 2015-2016. Il primo è il calendario venatoria regionale che doveva essere approvato dalla passata Giunta entro il 15 giugno, siamo già ai primi di luglio e non c'è ancora traccia di questo calendario che ci auguriamo che questa nuova Giunta possa approvare tempestivamente per permettere alle province di poter adempiere agli obblighi conseguenti. Poi immediatamente dopo, abbiamo chiesto con questa nuova interrogazione, la modifica del tessarino venatoria regionale che è stato imposto ai cacciatori nella passata stagione, la cui compilazione ha creato molti problemi di natura burocratica e amministrativa, esponendo i cacciatori a una serie di sanzioni per gli errori involontariamente commessi a causa della complessità della compilazione di questo tessarino. Importante è anche fare in modo che la Giunta applichi da subito la normativa comunitaria, in particolar modo la possibilità di applicare le cacce in deroga che rappresentano una caccia tradizionale, fortemente radicata nella nostra regione, ma che rappresentano anche una risposta alle imprese agricole che vedono le proprie coltivazioni fortemente danneggiate dall'eccessiva presenza di alcuni uccelli migratori. Un'altra interrogazione prevede la necessità di addivenire quanto prima una nuova proposta di piano faunistico venatorio che consenta alla regione di dotarsi di uno strumento pianificatorio che dovrà essere il punto di riferimento sia per la regione che per le province nella corretta gestione del patrimonio faunistico ed ambientale. Riteniamo che queste interrogazioni debbano essere presentate con tempestività e avere subito un riscontro considerando che abbiamo un altro problema importante che è quello legato agli appostamenti ad uso venatorio. Non è concepibile che la passata legislatura dopo aver approvato ben quattro leggi e quattro deliberi regionali metta ancora nelle condizioni possessori di questi appostamenti di dover adompare una serie di obblighi di natura burocratica quasi come se dovesse costruire delle case. Tutte queste cose devono essere affrontate con tempestività per fare in modo che la giunta possa dimostrare discontinuità con il passato. Siamo pienamente consapevoli che ci sono cose molto più importanti rispetto alla cazza che riguardano i cittadini ma i cacciatori sono cittadini e se stessi di serie A perché hanno la fedina penale perfettamente pulita e oltre ad essere interessati a problematiche come la sanità, come il lavoro, come gli aiuti alle imprese sono interessate anche a queste tematiche e riteniamo che i cittadini e i cacciatori abbiano il diritto di avere risposte concrete ed immediate da parte della giunta regionale. Le mie interrogazioni servono da stimolo per solicitare la giunta ad adempiere ancora meglio e con ancora maggiore tempestività agli obblighi previsti per legge. Quindi nello spirito di massima collaborazione che vogliamo intrattenere con la giunta regionale noi ci mettiamo a disposizione, io in particolar modo, con competenza accumulata negli anni per fare in modo che la giunta possa rispondere ancora meglio e con ancora maggiore tempestività alle esigenze dei cittadini.